Un murales di 70 metri quadri dedicato a Walter De Benedetto, l'aretino diventato simbolo della battaglia per la legalizzazione della cannabis terapeutica, venuta a mancare il 9 maggio scorso. A realizzare l'opera, promossa da Meglio Legale ed inaugurata a Roma, lo street artist Alessandro Tricarico, noto per le sue opere realizzate con stampe di grandi dimensioni, volte a lanciare messaggi che possono giungere ad un pubblico eterogeneo di persone. La decisione di dedicare questo murale a Walter De Benedetto, ha detto Antonella Sodo, coordinatrice di Meglio Legale, nasce dalla necessità di ricordare la sua storia e quella di molti cittadini che si trovano a vivere le stesse sofferenze, come diceva Walter, conclude, il dolore non aspetta. Affetto da artrite reumatoide da oltre 35 anni, Walter De Benedetto aveva deciso di coltivare nel giardino di casa cannabis perché il sistema sanitario non gli garantiva la quantità adeguata per alleviare il dolore, nonostante la regolare prescrizione. Era così finito a processo per coltivazione di sostanza stupefacente. Nell'aprile 2021 era stato assolto perché il fatto non sussiste. Per il gruppo di Arezzo lui produceva e utilizzava affini terapeutici per alleviare le sofferenze della sua malattia. Supportato dalla campagna Meglio Legale e dall'associazione Luca Coscioni, Walter De Benedetto più volte si era appellato alla politica. Il prossimo 29 giugno intanto il disegno di legge sull'autocoltivazione fino a quattro piante arriverà in aula.